Io speravo di poter trovare una casa per dare tranquillità e stabilità alla mia famiglia, perché essere sballottati così non è piacevole. Il mio appello è un lavoro, una casa, un qualsiasi cosa per cui potermi stabilirmi, andare avanti tranquillamente e normalmente come tutte le famiglie. E' questo l'appello lanciato da Marcello, imparato un 29enne disoccupato di Subbiano che si è trovato senza più un lavoro e soprattutto un tetto sopra la testa. Dopo mesi di arretrati è infatti arrivato lo sfratto esecutivo per Marcello e per la sua famiglia. O pagavo l'affitto o ci andavo avanti. Logicamente viene prima la famiglia e il bambino e non si riusciva più a pagare l'affitto in modo coerente. Quindi poi è venuta tutta la situazione andata avanti e è arrivato lo sfratto. Il 6 dicembre è arrivato l'ufficiale giudiziario e ci ha fatto uscire di casa, ci ha fatto andare via. Il comune di Subbiano ci ha trovato un alloggio per una ventina di giorni a Castelnuovo in un'affittacamere fino al 26 dicembre. Dopodiché scadevano i giorni anche perché c'erano le camere prenotate. E tramite dei privati e alcune associazioni sono riuscito a trovare qui all'albergo a Chenno, a Subbiano. E fino al 30 insomma sono lì. E il 31 mattina però devo lasciare l'albergo perché è anche lì il discorso delle camere occupate e devo ricercare un nuovo alloggio. Rischiamo di finire per strada e nelle peggiori delle ipotesi di avere una segnalazione al tribunale dei minori e rischiare il discorso del bimbo. È la cosa più brutta e più grave che potrebbe succedere. Cercheremo di non farlo succedere, spero anche con l'aiuto di qualche persona che magari si faccia avanti di aiutarci in qualche modo di evitare tutta questa situazione qua, che non è bella insomma. Marcello e la sua famiglia inoltre non hanno potuto fare domanda per gli alloggi popolari vista la difficoltà nel reperire i documenti necessari per la moglie di origine serba. Eravamo in graduatoria, poi dopo c'è stato un discorso che hanno messo delle nuove leggi e hanno riazzerato tutto e abbiamo dovuto rifare la domanda, ma per fare la domanda serviva un documento dal paese di mia moglie e più eravamo già con l'amorosità e non siamo riusciti a farla. Ora vedremo la prossima, quando riesce il nuovo bando, se riusciamo a fare la domanda in modo che così magari entriamo di nuovo in graduatoria, anche se so che le case non ce ne sono libere, però già stare in graduatoria già sarebbe un'altra cosa. Chiunque volesse contattare Marcello può farlo al 347-7354-804. Non ho richieste precise, quello che c'è da fare io lo faccio come ho sempre fatto, insomma qualsiasi tipo di lavoro mi è capitato l'ho fatto sempre, insomma. Poi ho esperienza come corriere, come aiuto pasticciere, insomma un po' di esperienze ce l'ho, però qualsiasi lavoro lo prendo, non è che dico no, questo non mi va o quello sì. Anche con i tempi che ci sono purtroppo bisogna accettare quello, prendere quello che c'è.